Katia Pizzi è il nuovo direttore dell'Istituto Italiano di Cultura e sostituisce Marco De Logu a fine mandato. Bolognese, laureata e docente di lingua e letteratura italiana all'University of London, Katia Pizzi è nel Regno Unito da 15 anni, dove ha pubblicato numerosi libri sulle identità culturali per i bambini. L'abbiamo intervistata per voi. Prime settimane intense, cercando di recuperare i fili dal lavoro assolutamente eccellente dei miei predecessori, soprattutto del mio diretto predecessore, il fotografo Marco De Logu, che ha fatto un lavoro veramente straordinario per aprire e portare diverse categorie, anche più giovani, più dinamiche all'Istituto. e quindi le prime settimane sono stato un lavoro di riallacciamento di fili e di creazione di fili nuovi per espandere e riportare all'Istituto anche persone nuove, giovani, categorie e rappresentanti che in genere non hanno avuto o in anni passati forse hanno avuto meno esposizione o meno interesse a frequentare l'Istituto. I miei programmi sono di aprire il più possibile l'Istituto, ovviamente di concerto con le attività dell'ambasciata che si sta già dando moltissimo da fare su certi fronti che sono importantissimi per la comunità italiana a Londra oggi. Per esempio c'è un programma bellissimo di Art to Business, quindi di portare insieme le realtà del business, delle industrie, dei mercati con la sponsorizzazione dell'arte, per esempio. Ho anche il programma di Science for Society, che è un programma che porta la tecnologia e la scienza al servizio della società. e questo soprattutto nel quadro dei cambiamenti climatici è una cosa che interessa particolarmente sia l'ambasciata che noi. E in genere veramente trasformare l'Istituto in un ambiente aperto, dinamico, dove i giovani, le nuove realtà di migrazione o anche di migrazione temporanea o permanente nel Regno Unito si sentano veramente ben accolte e si sentano rappresentate. Una delle grandi sfide e delle cose importantissime che dobbiamo continuare ad assicurare è un osmosi tra la cultura italiana e la realtà inglese che ci accoglie. Noi abbiamo dei rapporti consolidati con le comunità e anche le autorità britanniche. Questi rapporti continueranno e anzi diventeranno sempre più importanti, probabilmente a livello bilaterale piuttosto che a livello di comunità europea. e quindi ci sentiamo molto compresi nel desiderio di continuare e di espandere e di rafforzare i nostri legami con le autorità e la città di accoglienza nostra che è Londra. Ma non solo Londra, la nostra speranza è quella di accogliere comunità italiane e di interagire con l'ambiente britannico al di fuori della capitale. Quindi di portare le nostre attività in collaborazione o anche noi soli come istituto di portarle fuori Londra perché c'è tutto un grande bacino di potenziale, di utenze, di interesse che va al di fuori, al di là della capitale Londra. Gli inglesi amano la cultura italiana. A volte è possibile che ci siano visioni anche un po' antiquate, un po' ristrette. E credo che uno dei compiti più importanti dell'istituto sia quello proprio di allargare questa visione di renderla più contemporanea, più dinamica, più giovane. E' ovvio che è importantissimo continuare a pubblicizzare e anche a disseminare la cultura italiana, quella tradizionale, quella che gli inglesi amano da sempre, dal tempo del Grand Tour. Però è anche importantissimo rendere visibile e presente l'industria italiana, le nostre eccellenze nel design, nella moda, il cosiddetto made in Italy, del quale gli inglesi sono consapevoli perché usano tutti i giorni prodotti di qualità italiani. Però magari non si rendono conto che sono italiani. Quindi uno dei nostri compiti all'istituto è quello proprio di far rendere conto la società britannica di queste eccellenze italiane che usano quotidianamente e probabilmente non sanno nemmeno che sono italiane, o in certi casi. Diciamo che si tratta di una grande sfida e potenzialmente sarà anche un'opportunità, un'opportunità per l'istituto per farci conoscere ancora più profondamente e come dicevo prima in un rapporto che forse sarà più bilaterale, piuttosto che comunitario e che però ci dà l'opportunità e credo questo lo sappia benissimo anche la cultura britannica e il British Council si stanno veramente attivando per creare questi rapporti ancora più stretti con realtà culturali europee come quella italiana in particolare che sono assolutamente cruciali e importantissime anche per la cultura britannica. pensiamo a Shakespeare, pensiamo a Chaucer che hanno studiato testi italiani quindi la cultura italiana sarà sempre più importante e credo che anche i britannici si rendano molto conto di questa connessione che non sparisce con Brexit e anzi diventerà un rapporto diciamo più diretto, un rapporto diretto tra noi e loro e quindi con opportunità di approfondirlo e di renderlo più articolato e renderlo più visibile alle comunità sia la nostra che la loro. Io vorrei veramente dare il benvenuto a tutti, veramente vorrei dire quanto sono felice e onorata di ricoprire questo ruolo e vorrei che tutti si sentissero ben rappresentati che si mettessero in contatto con me se hanno delle esigenze o degli interessi particolari che vorrebbero che l'istituto svolgesse nel periodo del mio mandato e vorrei veramente che la comunità italiana si sentisse ben rappresentata e felice di frequentare l'istituto e che sentisse che l'istituto gli dà un supporto importante. Questa puntata è offerta da Aperie Events London l'unico vero aperitivo italiano garantito da Bold. Aperie Events London Aperie Events London